L'Italia maglia nera sul fronte delle competenze digitali. Nel 2023 nel nostro paese solo il 45,9% degli adulti possiede competenze digitali adeguate, oltre a un terzo ha competenze insufficienti ed il 5,1% pur essendo utente di internet non ha alcuna competenza. Lo rileva un'indagine dell'Istat aggiungendo che nel panorama europeo. L'Italia è uno dei paesi con la quota più bassa di persone con competenze digitali almeno di base.